Ciao a tutti, sono Cecilia Zandalasini, vi mando questo video messaggio perché sono rimasta davvero entusiasta di poter essere il testimone al femminile di Playground Milano League, un importante evento cestistico che appunto si svolgerà nella città di Milano. Per quanto riguarda il basket femminile devo dire che in Italia nell'ultimo periodo stiamo affrontando un bel momento ricco di successi e un sacco di persone si sono avvicinate al nostro basket e quindi questo mi fa molto felice. Purtroppo quando si svolgerà il Playground Milano League non riuscirò ad essere in Italia perché sarò a disputare il campionato in America e quindi non potrò esserci neanche per la fase finale dei The Minals. Quindi insomma vi mando ancora questo video per fare un grandissimo in bocca al lupo a tutti, spero di vedervi presto, un grande in bocca al lupo agli organizzatori, a tutti i ragazzi e ragazze che parteciperanno e che vinca il migliore, spero di vedervi presto. Ciao a tutti!